Attraverso la conoscenza e l'informazione sicuramente ognuno si può prendere maggiormente cura di se stesso e quindi anche preservarsi da possibili malattie o comunque migliorare le proprie condizioni di vita in caso invece di malattie croniche. Parliamo infatti oggi del diabete ma sicuramente parliamo anche di altre malattie e parliamo dell'obesità, delle malattie cardiovascolari che anche derivano dal diabete. La campagna nazionale sulla prevenzione del rischio cardiovascolare per chi ha il diabete sarà a Napoli in piazza Dante il 28 e 29 maggio. L'iniziativa promossa dall'assessorato alle politiche sociali è realizzata con il patrocinio della società italiana di diabetologia e dall'associazione medici diabetologi è legata al progetto internazionale cities changing diabetes. L'unità mobile farà tappa in 50 città e sarà possibile confrontarsi con gli specialisti e ricevere una valutazione diagnostica. Una campagna di prevenzione che passa attraverso come dicevo la conoscenza e anche la responsabilizzazione dei singoli. L'amministrazione quindi le istituzioni però hanno un ruolo fondamentale importante che non è soltanto quello di patrocinare delle iniziative ma di renderle continuative e quindi di finalizzare anche al meglio questo tipo di attività offerte dalle comunità scientifiche. Grazie. Grazie.